possono fruttare, sbagliato fosse il termine, però io dico fruttare, in media c'è 13 articoli sul giornale dove si è comprata la pubblicità. Questo è un modo un po' brutale per introdurre l'argomento di oggi, di questo incontro, che è dedicato al rapporto tra la pubblicità e gli interessi economici riferiti alla carta stampata. Se un'azienda vuole visibilità, cerca visibilità su un giornale, ottiene lo scopo comprando della pubblicità. La certificazione di questa realtà, che è abbastanza intuibile, avviene dalla ricerca che è stata condotta da Riccardo Puglisi, che relazionerà per voi, vi riferirà di questa ricerca, ricerca che hai fatto insieme a Marco Gambaro. Sono stati presi in esame gli articoli quotidiani su alcuni giornali, mi pare sei quotidiani italiani, per due anni, riferito a 13, mi pare, 13 aziende quotate in borsa. E appunto ciò che è uscito è questo fatto che un'azienda, una volta che compra pubblicità su un giornale e poi produce dei comunicati stampa, ha una grossa probabilità di vedere valorizzato questo comunicato stampa e avere un articolo su questo giornale. Tutto bene se non fosse che questo meccanismo può produrre dei disguidi, ma può anche portare delle distorsioni sul mercato. E sentiremo da Riccardo Puglisi perché e come. Chiederò voi potete innanzitutto, tra l'altro Riccardo diceva che se volete potete, mentre lui vi spiega, fa questa relazione, potete tranquillamente fargli delle domande, intervenire e non aspettare la fine. Perché poi una domanda che faremo a lui è se di questo rapporto che c'è, i giornalisti che sono i mediatori di questa cosa e gli interpreti, sono consapevoli di questo potere, sono consapevoli che appunto attraverso l'acquisto della pubblicità l'azienda può ottenere questi bonus per quanto riguarda gli articoli. Ed è un problema non da poco perché se pensiamo che la pubblicità rappresenta la metà dei ricavi per i quotidiani, se pensiamo anche che c'è un problema è proprio di accaparare la pubblicità. Questo vale anche ovviamente per la televisione, non per, io sono della RAI, quindi non per noi, non particolarmente, anche se la RAI, sapete, fa molta attenzione agli introiti pubblicitari, ma tanto più per i giornali. Perché, e poi darò la voce e la parola a Riccardo Puglisi, io ho letto che quest'anno in America la pubblicità online supererà quella, per esempio, della carta stampata. Quindi, insomma, è un mercato appetibile, c'è una grande concorrenza. Io ho concluso, l'unica cosa che voglio dire è che Riccardo Puglisi, ve lo presento, è ricercatore all'Università di Pavia, collabora con lavoce.info, la sua ricerca spazia dall'economia alla politica dei mass media, economia dell'immigrazione e scienza delle finanze. Prego. Grazie mille. Adesso mi traslo a sinistra perché devo andare a manovrare il computer. Ricordatevi che se volete potete fargli delle domande. Se c'è qualcosa, magari ti interrompo. Grazie mille per questa presentazione. Quindi il titolo della presentazione ti ringrazio per essere qui presenti nonostante il caldo robusto di oggi. Allora, quali sono le questioni in ballo di cui vorrei parlare? Innanzitutto bisogna domandarci qualcosa sulla natura di quello che vorremmo studiare. Che cosa compra la pubblicità? Innanzitutto la risposta banale e corretta è che la pubblicità compra l'attenzione dei lettori, degli ascoltatori a seconda del mezzo per i prodotti pubblicizzati. Questo è il primo scopo. La pubblicità nasce così. Ma i mass media sono sostanzialmente, come anche già Laura sottolinava, sono un giano bifronte, nel senso che sono un mercato a due lati. Ovvero da un lato io, signor mass media, vendo contenuti a lettori ed ascoltatori. Dall'altra parte io vendo agli inserzionisti pubblicitari l'attenzione di questi lettori ed ascoltatori per i prodotti venduti dagli inserzionisti pubblicitari. Quindi le due cose vanno insieme, nel senso che la pubblicità costa tanto di più quanto più il mezzo in questione ha contatti. Infatti si parla per esempio di eyeballs, cioè quante palle d'occhio vengono catturate da un certo giornale. Evidentemente il New York Times cattura più palle d'occhio di un quotidiano piccolo in una cittadina all'Oklahoma. Questo è evidente. ma la questione è che il giornale è fatto, un giornale, un mezzo mediatico è fatto di due parti. Da una parte c'è il contenuto a cui sono interessati i lettori ed ascoltatori, dall'altra c'è la pubblicità. E bisogna vedere come le due cose si dividono o non si dividono. E la domanda è questa. Esiste un muro di separazione, ci domandiamo e dovremmo domandarci tutti tra i contenuti offerti ai consumatori, quindi le informazioni, l'entertainment, il divertimento, spettacoli che possono piacere e gli spazi pubblicitari offerti ai produttori. Le due cose sono separate oppure si influenzano in qualche modo. Questa è la questione di cui vogliamo occuparci. Quindi tra l'altro, per ora vi ho parlato di dati strutturali, nel senso questo. Questa è l'essenza della pubblicità e l'essenza del funzionamento dei mass media come Giano Bifronte. Dall'altra parte però vale anche le considerazioni che interessano all'economista, le considerazioni del ciclo economico, ovvero sia la relazione potrebbe essere diversa, la forza di questo muro di separazione potrebbe essere minore o maggiore a seconda di come vanno le cose. La crisi finanziaria può rendere più difficili le cose nel mondo dei mass media. Perché? Perché calano, la gente potrebbe decidere di comprare meno giornali, guardare meno televisione e contemporaneamente le imprese decidono di tagliare gli investimenti pubblicitari. Perché è più facile tagliare gli investimenti pubblicitari che tagliare altro. Quindi le condizioni diventano più strette, più difficili dal punto di vista finanziario, dal punto di vista dei ricavi, nel momento in cui la crisi finanziaria picchia sull'economia. Quindi ci facciamo qualche domanda e quindi vi vorrei raccontare di queste domande. La prima domanda è quindi se i mass media trattano in maniera diversa le imprese che comprano spazi pubblicitari su ciascuno di essi. C'è un trattamento diseguale tra le imprese a seconda di quanta pubblicità viene comprata. Numero due, ma vogliamo, questa non è una questione che può prescindere dall'analisi complessiva del business di scrivere dei mass media, cioè del fatto di dare informazioni a un largo pubblico. Quindi in generale ci vogliamo domandare che cosa rende degne di notizia, notiziabili, forse è un termine che viene talora utilizzata, degne di notizia, il termine che usano in inglese newsworthy, cioè esattamente degno di notizia, le diverse imprese. Dobbiamo tenerne conto perché imprese diverse possono essere diversamente degne di notizia. Ad esempio è verosimile, tanto per nominare imprese che sono nel nostro campione, è verosimile pensare che la Fiat sia più degna di notizia della, per esempio, di TODs. E dall'altra parte quanto un'impresa è degna di notizia, per la stessa impresa potrebbe cambiare nel tempo. Dall'altra parte le imprese non acquistano soltanto pubblicità, come si sa. Le imprese svolgono anche attività di cosiddette PR, public relations, ovvero sia hanno una parte delle persone impiegate in una data impresa, chiaramente molto più probabilmente se l'impresa è grossa, hanno esattamente questo scopo di gestire le relazioni pubbliche dell'impresa stessa rispetto a stakeholders, ovvero sia soggetti in generale e in particolare rispetto all'opinione pubblica. L'opinione pubblica chiaramente è formata in qualche misura da ciò che viene riportato sui mass media. Quindi c'è una funzione di cercare di spingere, di dare, di diffondere un buon clima intorno all'impresa, che a volte si declina, si traduce nel evitare cattive notizie all'impresa, cercare di fare quello che viene definito gestione della crisi, crisis management, qualora ci fossero brutte notizie da smaltire. Ma questo è qualcosa che specificamente riguarda molto l'Italia, riguarda sia la televisione, ma riguarda anche, e in questo caso quello che ci interessa, riguarda anche i giornali. In Italia ci sono tanti editori impuri. Impuri, forse c'è pure una connotazione morale, oserei dire, nel termine, invece dovrebbe essere un termine un po' più agnostico. Comunque, editore impuro raffigura il caso in cui una impresa editoriale è posseduta da una società che fa qualcos'altro. Ci possono essere imprese pure, editori puri sono quelli che fanno solo quello, cioè diffondere contenuti informativi. Gli editori impuri invece riguardano quei casi in cui c'è un'altra società che può essere attiva altrove, che produce qualche altro bene, può produrre spazzole e decide di, comunque possiede un giornale, una televisione o quant'altro. Beh, la maggioranza, no? Dei grandi quotidiani italiani. Esattamente, la questione rilevante per il caso italiano è data dal fatto che l'impurezza è predominante dal punto di vista degli assetti proprietari, cioè di chi possiede le società italiane, i giornali italiani. Quindi vogliamo domandarci come le due cose si mettono insieme, perché da una parte possiamo avere un controllo, diciamo un'influenza o un'associazione tra quello che viene pubblicato e la pubblicità, ma dall'altra parte se io sono una società e possiedo una quota in un'impresa, in un quotidiano, beh, forse non ho neanche bisogno di comprare pubblicità. Io sono l'azionista e in una certa misura ho il potere di decidere chi è il direttore, ok? O se siamo tanti azionisti possiamo metterci d'accordo su chi è il direttore. Oppure, diciamo, stabilire qualche... poi abbiamo qualche potere, sicuramente il diritto di proprietà dà dei poteri. Com'è che rispondiamo a queste domande che ci sembrano importanti? Io, come raccontava Laura, vi parlerò di un recente lavoro empirico che ho fatto con Marco Gambaro dell'Università Statale di Milano e cosa facciamo? Noi vogliamo fare un lavoro in cui non andiamo a guardare un caso studio, cioè non andiamo a guardare un singolo giornale, non leggendo gli articoli direttamente. Noi utilizziamo una procedura automatica, ovvero sia in maniera automatica attraverso un programma che si definisce screen scraper, web crawler, si chiama un programma che entra nell'archivio online delle notizie del giornale cartaceo, ok? Non il giornale, tanto per intenderci, non Corriere.it, Corriere della Sera, la versione cartacea, e raccogliamo dati sul numero di articoli pubblicati giorno per giorno, ok? Da sei quotidiani italiani e ci focalizziamo sugli articoli, andiamo a cercare gli articoli che menzionano 13 società quotate sul mercato di Milano, ok? E ci focalizziamo su due anni, cioè il 2006 e il 2007. Quali sono i quotidiani? I quotidiani sono il Corriere della Sera, la Repubblica, stampa come quotidiani nazionali. Come quotidiani locali o più marcatamente locali abbiamo il resto del Carlino, il Tirreno e il Mattino di Padova. Questi sono i sei giornali che consideriamo. Quali sono le società che consideriamo? Diciamo, consideriamo, tanto per avere presente casi rilevanti, noi consideriamo società grandi o società medie. Le società sono Campari, Edison, Enel, Eni, Fiat, Fimmeccanica, Geox, Indesit, Luxottica, Mediolanum, Telecom Italia, Tiscali e Toscali. Quindi sono, come potete vedere dai nomi, se facessi un test sono piuttosto sicuro che voi sapreste qualcosa di tutte queste società o quasi tutte, il 95% di queste società. Quindi sono società note, sono società grandi e medie. Come funziona il nostro approccio? Noi mettiamo insieme questi dati, abbiamo questi dati, quindi avremo, sapremo di quante volte il giornale X nomina l'impresa Y nel tal giorno. Questi sono i nostri dati. Ok? E noi mettiamo insieme questi dati con dati mensili su quanta pubblicità viene acquistata da ciascuna società quotata su ciascun quotidiano. I dati sono forniti da Nilsen Italia. Quindi, tanto per tenere presente, ripetere una seconda volta per avere presente la cosa, abbiamo dati giornalieri sulla copertura mediatica, sulle menzioni, il numero di articoli che menzionano la data impresa e i dati mensili sulla copertura, sui acquisti pubblicitari. Tenuto conto del fatto che questa è la massima, è il periodo di tempo più corto per cui si possono avere dati pubblicitari. Se ci pensate bene, andare sotto il mese non ha molto senso. Noi non facciamo un'altra cosa, sempre sfruttando un motore di ricerca automatico che scriviamo noi, raccogliamo le date precise in cui ciascuna società di queste tre GDC emette un comunicato stampa. Il comunicato stampa è uno dei modi, il modo principe, attraverso cui le imprese comunicano qualcosa qualora vogliono comunicarlo. Ok? In certi casi sono persino obbligati, sono obbligate dall'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, dalla Consob nel nostro caso. Ci sono alcune informazioni che vengono definite price sensitive, cioè che possono influenzare il prezzo dell'azione che devono essere comunicate con tempestività in un certo modo. Però questo non vuol dire che l'impresa non possa decidere di raccontare altre cose, ok? Tramite un comunicato stampa. Quindi noi sappiamo la data esatta in cui esce un comunicato stampa da parte dell'impresa X. Poi vi parlavo prima del fatto che, della rilevanza di ciò che rende notiziabile, rende degna di notizia una data impresa. Noi cerchiamo di approssimare la presenza di eventi notiziabili, cioè eventi degni di diventare notizia, andando a guardare la variazione della quotazione della singola azione della singola società il giorno prima in borsa. Ovvero, di quanto è variato il prezzo di fiat ordinarie in un certo giorno? 0%, 1%, 2%, meno 2%, eccetera. L'idea è che, se ci pensiamo bene, in sé per sé il fatto che ci sia un grosso cambiamento nel prezzo di un'azione è una cosa che può essere degna di notizia. Pensate agli azionisti, io ho delle azioni, perdo il 5% in un giorno, mi interessa saperlo. Oppure, in caso positivo, che ci sia il 3% in più di salita dell'azione. Dall'altra parte, se un'azione si muove molto, vuol dire che molto probabilmente qualcosa è successo. Perché? Perché quando succede qualcosa, la gente ha opinioni diverse se questo è una buona notizia o una cattiva notizia per l'impresa. Quindi qualcuno compra, qualcuno vende. E in certi casi, chiaramente, può dominare chi pensa che sia una buona notizia o una cattiva notizia. Così si determina come varia il prezzo. Quindi questa potrebbe essere una misura, la prendiamo come una misura ragionevolmente obiettiva, della presenza di eventi degni di notizia. Riguardo alla data impresa, il dato giorno. Ok, quindi quali sono i nostri risultati? I giornali danno maggior copertura ad una società, cioè menzionano la società in più articoli, quanto più lontana da zero la variazione di borsa del giorno precedente. Quindi buone notizie, cattive notizie fanno entrambe notizia. Ovvero sia quanto più la variazione della quotazione il giorno prima, quindi è qualcosa che è già avvenuto. Quanto più è vicino a zero, tanto più i giornali in media, cioè tutti quanti giornali del nostro campione, hanno meno interesse a parlare di quella società. Non è successo nulla. Quanto più la quotazione varia, sia in alto che in basso, tanto più il giornale ne parla. Cioè i giornali in media ne parlano. Tra l'altro, io qui vi sentitizzo la cosa con questa specie di slogan, buone notizie, cattive notizie fanno entrambe notizia. Questa è la conclusione che si può trarre anche perché uno dal punto di vista statistico deve concludere che l'effetto di buone notizie e cattive notizie è lo stesso. All'incirca un 1% in più e un 1% in meno la quotazione inducono lo stesso cambiamento nell'ammontare di notizie a proposito di quella società. Quindi spesso si parla del fatto che le buone, le cattive notizie fanno più notizia delle buone notizie, che le cattive notizie facciano più notizie delle cattive notizie, invece i nostri dati non ci mostrano questo. Ci mostrano che all'incirca buone notizie cattive notizie fanno entrambe notizie. Poi, dal punto di vista statistico noi usiamo una cosa che si chiama regressione multipla, ovvero sia, noi cerchiamo di, la nostra variabile dipendente, la nostra variabile che vogliamo spiegare è la copertura mediatica delle società su ciascun quotidiano, per ciascun giorno. Dobbiamo tenere conto del fatto, e cerchiamo di spiegare questa variazione, questo andamento, in funzione di più variabili, non una variabile sola, la pubblicità, ma di tante variabili considerate contemporaneamente. Questo è l'aspetto cruciale della cosiddetta regressione multipla, cioè spiegare una variabile in funzione di tante variabili. Quindi la cosa importante è tenere presente il fatto, per esempio, che i giornali sono uno diverso dall'altro, ovvero sia un giornale potrebbe essere più o meno propenso a parlare di notizie economiche. Dobbiamo tenere conto di questo. Forse è ancora più importante, dobbiamo tenere conto del fatto che le società sono più o meno degne di notizia, come vi dicevo prima. È probabile che nel nostro campione Eni faccia più notizia di Campari. Quindi dobbiamo tenere conto di questo, anche perché nessuno si dovrebbe stupire del fatto che Fiat compra più pubblicità e Fiat appare di più sui quotidiani. Il problema è che questo dipende dal fatto che è Fiat. Quello che vogliamo fare noi è confrontare cosa fa Fiat, cioè lo stesso oggetto, tra un quotidiano e l'altro, in funzione di quanta pubblicità compra Fiat su un quotidiano contro l'altro. Quindi tenendo conto di queste cose, il risultato che pensiamo forte che otteniamo è il seguente. Teniamo conto di questo, teniamo conto di queste fonti di diversità che possono confondere le cose. I giornali sistematicamente pubblicano più articoli sulle società quotate che comprano più pubblicità su di loro. Cioè dal punto di vista statistico noi possiamo rigettare l'ipotesi che non ci sia un legame. Noi troviamo un legame e il legame è positivo. Più pubblicità, più menzioni. Più articoli che menzionano queste imprese. Come accennava Laura, l'effetto non è piccolo. Nel senso che per 50.000 euro di pubblicità in più in un mese, che è un importo che non è strano trovare all'interno dei nostri dati. Non vi sto raccontando un numero che è fuori dai dati. Fuori dal range in cui variano i dati. Si hanno in media 13 articoli in più al mese. Quindi se facciamo un po' i conti in maniera veloce, questo vorrebbe dire all'incirca un articolo ogni tre giorni in più. Qualcosa di più. Questo è l'ordine di grandezza. Perché in questo tipo di ricerca non ci interessa soltanto sapere se una relazione c'è. Ci interessa anche sapere quanto è grande. Su questo bisogna tenere presente che ci potrebbe essere, questo è un dato medio, cioè che potrebbe nascondere delle diversità tra imprese e tra quotidiani. Quello che vi posso dire è che se c'è dell'eterogenità è nel senso del fatto che l'effetto sia più piccolo per i quotidiani nazionali. Per i quotidiani nazionali l'effetto invece è essere 13 articoli e all'incirca 7-8 articoli. Se noi vogliamo, questi sono i dati, se noi vogliamo cercare di interpretare questi dati, quindi fare un passo indietro di fronte a questi dati, potremmo spiegarlo per esempio in questo modo, e ne parlerò poi alla fine, che in realtà un quotidiano più grande ha più potere contrattuale rispetto agli inserzionisti pubblicitari, ha più potere, ha più possibilità di scelta, ha più inserzionizi che vogliono comprare pubblicità. Mentre invece questo potrebbe essere meno rilevante per i quotidiani locali, ovvero mi spiego meglio, cioè questo potere contrattuale dei giornali potrebbe essere più basso. Allora, continuo a parlare dei risultati. Vi parlavo delle emissioni dei comunicati stampa. Certe imprese ne emettono di più, certe imprese ne emettono di meno. Un dato di fatto è che significativamente il giorno dopo l'uscita di un comunicato stampa sull'impresa X, tutti i quotidiani ne parlano di più. Come si dice, bella prova nel dialetto lombardo, cioè nel senso, meno male che così, cioè se io guardo i dati e non trovassi una cosa del genere, mi preoccuperei di quanto sono sporchi i dati, cioè che sono confusi, c'hanno dentro quello che si chiama rumore, cioè non c'è tanta informazione dei dati. È legittimo pensare, Campari esce con un comunicato stampa, annuncia qualcosa di nuovo che ha fatto oppure annuncia dei risultati. Il giorno dopo tutti quanti, chi meno, ne parla di più. Quello che è interessante è quello che viene dopo. Ovvero sì, questo è vero, ma l'aumento di articoli da parte di un quotidiano quando esce un comunicato stampa è sistematicamente maggiore se un'impresa, se una certa società, su quel quotidiano, su cui quella certa società che ha emesso il comunicato stampa compra più pubblicità. Quindi c'è un effetto di sinergia tra le due cose, almeno questo vediamo nei dati. Esce il comunicato stampa, tutti ne parlano di più, bella prova, ma se ne parla di più su quei quotidiani su cui quell'impresa ha investito più pubblicità. Questo è un risultato molto forte e difficile da cancellare nei dati, sostanzialmente si vede bene. Vi parlavo prima della questione degli editori impuri. Noi possiamo tenere conto del fatto che ci sono editori impuri, non vogliamo farci confondere le idee, stiamo guardando la pubblicità, ma nel contempo possiamo anche guardare questa rilevanza degli editori impuri. In che modo lo possiamo fare? In una maniera molto semplice, noi possiamo identificare le coppie incestuose, se mi passate questo termine, ovvero sappiamo benissimo dai dati, in realtà c'è stabilità perché non ci sono stati cambiamenti societari in questi anni 2006-2007 che studiamo, non c'è variazione, sappiamo benissimo quali sono le coppie di società che possiedono quote più o meno grandi in una società. Quali sono queste coppie? Sono da un lato stampa e fiat, in questo caso il possesso è totale, due abbiamo un menage più complicato per il caso del corriere, come ben sapete. Il corriere della sera, nel patto di sindacato, tanto c'è il patto di sindacato e poi ci sono gli azionisti che sono fuori dal patto di sindacato, in ogni caso tre società nel nostro campione possiedono quote più o meno rilevanti nell'azionariato del corriere della sera. Quali sono queste? Ve le dico, se non ve le ricordate, Fiat, Telecom Italia e Tods. Queste società possiedono quote. Noi possiamo tenere presente questo, ci possiamo dire attenzione, permetti ai dati di avere una media diversa, cioè permetti ai dati su quanti articoli ci sono in più di avere una media diversa per quella singola coppia, ad esempio Fiat e stampa. Ma d'altra parte continua a dirmi, cerca di dirmi qualcosa, perché mettiamo insieme tante variabili nello spiegare la copertura mediatico, continua a cercare di dirmi, dimmi il risultato su pubblicità e comunicati stampa. Ecco, i risultati su pubblicità e comunicati stampa sono robusti, come si dice in termini tecnico. Cioè, sono sempre lì, anche se stiamo presente, questo fatto dei rapporti impuri tra quotidiani e imprese società quotate. Posso farti una domanda io allora? Con che consapevolezza i giornali? Cioè, è un premio alla società che acquista, oppure non è una cosa casuale e quindi perché succede? C'è della preveggenza, nel senso che ne parlo esattamente adesso, cioè questi sono dei risultati che cercano, come dici giustamente, un'interpretazione. Nel senso che uno si trova di fronte, ci sono due momenti, io trovo dei risultati, vedo delle correlazioni, vedo questi legami, questi 50.000 contro 13 articoli e voglio cercare di domandarmi, ex post, che cosa, come interpretare. Evidentemente uno parte alla ricerca di, parte ad analizzare questa cosa esattamente perché pensa e se ne parla che ci possa essere una relazione significativa. Questa è una slide un po' andreottiana, se vogliamo, cioè nel senso che io vi comincio a dire, i dati sono compatibili, vorrei fare andreottiana ma non troppo, ovvero io vi dico che questi dati sono compatibili con due interpretazioni, oppure questo è bianco-nero e comunque con una scala di grigio di interpretazioni che vanno dall'una all'altra, ovvero l'interpretazione più benigna. L'interpretazione più benigna è questa, e che io non mi sento di escludere assolutamente, non ci sentiamo di escludere, io e Gambaro. Ci potrebbe essere un effetto riflettore, highlight, cioè dovete pensare come un faro che illumina la società che compra pubblicità. La società che compra pubblicità è più nota di un'altra che non compra pubblicità. Quindi inconsciamente può essere, non si può escludere, che i giornalisti abbiano più spesso in testa questa società, ma ne parlino di più, senza che per forza si tratta di un legame conscio. Questa è l'interpretazione benigna del legame. Questa è l'interpretazione benigna, vi dico anche l'interpretazione più maligna. L'interpretazione più maligna è quella a cui sembrava si potesse sottintendere, potesse sottintendere la tua interpretazione, è questa, in maniera più o meno implicita, quando un'impresa compra spazi pubblicitari, non compra soltanto spazi pubblicitari, ovvero sia la pagina finale del giornale XY o la pagina nel mezzo del giornale, la mezza pagina, quello che è, compra anche l'attenzione aggiuntiva dei quotidiani. Cioè è come se ci fosse un bundle, un bundle vorrebbe dire un pacchetto, un pacchetto in cui c'è dentro la pubblicità, che è il punto da cui siamo partiti, la cosa che si compra quando si compra pubblicità, la pubblicità stessa è una tautologia, però questo è. Dall'altra parte si potrebbe comprare anche, attenzione, in quello che viene chiamato news hole, cioè il buco delle notizie, cioè quello che sta dentro la pubblicità dove vanno le notizie o vanno i fatti che vengono raccontati, i commenti e qualche. Quindi l'idea potrebbe, in questo caso uno potrebbe anche pensare al fatto che la crisi rende più pesante questo tipo, la contrattazione tra quotidiani, in generale tra mass media e inserzionisti pubblicitari, nel senso che i mass media in un periodo di crisi sono affamati di fatturato, di ricavi, non sono l'unica impresa che in periodo di crisi evidentemente è affamata di ricavi e quindi offrono non soltanto lo spazio pubblicità, ma dicono no ma state tranquilli che parliamo anche di voi negli articoli, cioè non state comprando soltanto pubblicità. Quindi ci potrebbe essere una specie di grado di libertà, ovvero sia forse quando non c'è la crisi questo effetto vale di meno, quando c'è la crisi vale di più. I nostri dati non ci permettono di dire questa cosa perché abbiamo raccolto dati per il 2006-2007, una cosa che vorremmo fare è aggiungere dati e vedere che succede negli anni problematici. Il 2007 non è così problematico perché la crisi è, la crisi di subprime ricordatevi è iniziata nell'estate 2007, ma la crisi sul lato reale dell'economia è cominciata dopo, quindi noi non la vediamo nei dati. Quindi potrebbe essere interessante vedere questo, cioè la differenza. Anche perché posso interromperti? Perché comunque un conto è avere la pubblicità, un conto è avere un giornalista che ti parla di un'azienda e per il lettore investitore risulta comunque più credibile il fatto che ci sia un giornalista che parla bene di un'azienda rispetto alla pubblicità. Quindi per l'azienda è assolutamente un business. Questo è una questione rilevante nel senso che anche, diciamo, la ricerca in scienze delle comunicazioni, scienze politiche e economia, quindi già in scienze sociali, mostra esattamente questo, quello di cui stavi parlando, quello che stavi suggerendo, ovvero sia che i messaggi che provengono, la gente è razionale, è abbastanza razionale, ovvero sia sconta il fatto che qualcuno possa avere un, qualcuno che comunica qualcosa, colui che manda un messaggio potrebbe avere un interesse. Quindi evidentemente vediamo la pubblicità dell'azienda XY, dice ah noi siamo bravissimi. Non ci stupiamo che l'impresa XY dice noi siamo bravissimi, i nostri prodotti sono bellissimi, robustissimi, eccetera eccetera. Se un messaggio del tipo, ma guardate che i prodotti i prodotti dalla, mi sembra essere la poi il can, scusa, l'impresa, i prodotti, i prodotti dall'impresa XY sono buoni. Se non lo dice l'impresa stessa, ma lo dice un articolo, questo potrebbe avere un effetto maggiore proprio a motivo della diversa credibilità. Dovrebbe essere una fonte terza, terza, ovvero sia imparziale. Questo è un fenomeno generale in realtà. Capita quando qualcuno la credibilità delle fonti è qualcosa di cui le persone tengono presente. Quindi questo è forse il problema, il problema sottostante. Il problema normativo sottostante, cioè il problema dal punto di vista del giudicare le cose in termini di effetti di benessere sulla società, punta esattamente a questo tipo di problematica, che l'informazione, quando è un po' il tema del festival di quest'anno, l'informazione deve avere credibilità. Quindi questa è una questione problematica. Dal punto di vista, i dati hanno il vantaggio che sono dati quantitativi, i dati possono essere interpretati. Io la penso così, è come se ci fosse un insieme di interpretazioni possibili. I dati, i nostri risultati ne escludono alcune, ovvero sia escludono l'assenza di una relazione. La relazione c'è, è significativa, è robusta, è tosta, ma non possiamo dire, cioè io non posso scommettere, non posso dirvi sulla base dei dati soltanto e dei risultati che ottengo, quale delle due interpretazioni sia più credibile. Questo lo lascio a chi legge, a chi ascolta. Però mi rendo ben conto che, non so, se dovessi dare una mia interpretazione, però questo è come se mi togliessi il cappello di quello che ha fatto lo studio e dicessi la mia, parlando come privato cittadino, direi 65% l'interpretazione 2, 35% l'interpretazione 1. Questa è la mia interpretazione. Quindi comunque non do una probabilità bassa nella scala di grigio alla prima, perché non posso escludere sicuramente, in tutti i casi, e anche in questo. Adesso, tanto per allargare, io adesso vi ho parlato di una parte dei nostri risultati, vi voglio mettere in prospettiva, cioè vi voglio raccontare brevemente altri studi che sono stati fatti. Non sono stati fatti tanti studi su questa cosa. Ce n'è uno molto interessante che riguarda la finanza. Sono questi Reuter e Sitzewitz che hanno scritto un articolo nel 2006 e vanno a vedere il legame tra quanta pubblicità comprano i fondi comuni di investimento, che si chiamano Mutual Fund negli Stati Uniti, e le valutazioni che i giornali di finanza, quindi quanto i Mutual Fund, cioè i fondi comuni di investimento, comprano su giornali di finanza personale, tre giornali di finanza personale. Su questi giornali di finanza personale è un giornale specifico, un po' come quattro ruote per le automobili. Questi giornali devono dare delle valutazioni su quanto buoni sono i fondi. Ecco, quello che gli autori trovano è che c'è una relazione positiva, quindi simile alla nostra, tra quanta pubblicità viene comprata e quanto positivo sono le valutazioni sul giornale stesso. Ma c'è qualcosa di simile a... è interessante che questo tipo di relazione positiva non c'è, non c'è dal punto di vista statistico, cioè uno non può... non esiste relazione, per due giornali diversi, ovvero sia il Wall Street Journal e il New York Times, che sono quotidiani nazionali. Uno generalista, il New York Times, l'altro finanziario, cioè il Wall Street Journal. Quindi i giornali più grossi si fanno influenzare di meno. Perché? Perché si può ragionare ancora ex post? Perché il giornale è grosso e l'inserzionista è piccolo. Nel nostro caso, invece, noi stiamo parlando di giornali più grossi o meno grossi, ma gli inserzionisti pubblicitari sono grossi, medi, grossi. Quindi da questo punto di vista il nostro studio ha un tipo di bersaglio diverso. Sono grossi, sono quotati in borsa. Esattamente, sono tutte società quotate in borsa. Infatti poi vi parlerò anche del legame con l'aspetto della finanza. Un altro studio, Raffaele Di Tella, che ha parlato venerdì, vi ha raccontato altre cose sull'opinione sulle privatizzazioni in Argentina, ha dei risultati molto interessanti, sempre sull'Argentina, sul legame tra quanta pubblicità il governo argentino, quindi il signor governo argentino, compra sui quotidiani argentini, quotidiani nazionali argentini, e quanto spazio questi quotidiani danno in prima pagina agli scandali che coinvolgono il governo. Quindi l'idea è, doubt des, compro più pubblicità, tu parla meno degli scandali che coinvolgono i membri del governo. Il risultato che loro ottengono è esattamente questo. C'è questa correlazione negativa, ovvero più pubblicità, meno copertura di scandali. Come viene misurata la copertura di scandali? La cosa interessante è che in questo caso Raffaele Di Tella e Franceschelli misurano esattamente lo spazio. Cioè misurano col centimetro, anzi si fanno aiutare da un software, se non ricordo male, quanto spazio viene dedicato in prima pagina a queste notizie. E l'altra cosa interessante, vi ricordate quell'idea del Giano Bifronte, il giornale prende pubblicità e cerca di vendere le copie. I giornali che ricevono più pubblicità dal governo parlano meno di queste notizie e in realtà perdono copie. Quindi guadagno da un lato, perdo dall'altro, ovvero sia in termini di copie vendute. Quindi sì, mi sa che deve aspettare il microfono. Ma ha chiesto se questo accade anche in Italia, tra due. Se questo accade anche in Italia, non lo so. Posso avere una risposta? No, do una risposta più precisa. In Italia il governo, cioè c'è una diversità istituzionale tra Italia e Argentina secondo questa esatta dimensione, ovvero sia in paesi come l'Argentina il governo compra tanta pubblicità. In termini quantitativi è una sorgente importante e tra l'altro è un aspetto discrezionale. Non c'è una legge che dice io contribuisco alle tue spese di spedizione dei giornali, basta. Oppure pago ai quotidiani di partito. Evidentemente anche questo crea delle distorsioni. Però la regola è data una volta stabilita una legge. Nel caso dell'Argentina i contributi sono discrezionali. Quindi questo non vuol dire che ci sono altre cose. Innanzitutto ci sono questioni relative, nel caso italiano, a parte la questione della pubblicità, ci sono questioni relative alla proprietà dei mezzi e relative al controllo del canale pubblico. Questa è un'altra questione. Però non saprei dire qualcosa di più su questa cosa della pubblicità stessa. Una cosa che naturalmente chi compra, sui quotidiani italiani, non compra direttamente il governo, ma il governo può dire qualcosa alle imprese private riguardo al comprare pubblicità. Questo è un altro elemento di cui tra l'altro una volta ho parlato sul sito della Voce. Questo è un altro legame indiretto. Questo non si può escludere. Infine c'è un altro, un terzo articolo. Quindi c'è poca, sostanzialmente vi ho raccontato tutto quello che c'è in termini di studi quantitativi su questa roba. Ovvero se c'è questo studio di Rinaldo e Basuroi in cui viene studiato un settore invece più, in cui ci sono più sospetti a priori. Cioè, se voi andate a parlare con qualcuno nel settore del giornalismo e dell'EPR, un settore in cui tipicamente si pensa che il muro di separazione sia una specie di velina, o sicuramente non un muro di cemento armato, questo è il settore, per esempio, delle riviste di moda. Ovvero sia, questo è un settore, quindi i settimanali, e in particolare i settimanali di magazine di moda, pare che abbiano molti meno assicurazioni riguardo alla separazione tra il lato pubblicità comprata e dagli inserzionisti, e trattamento delle imprese che comprano pubblicità negli articoli, nei cosiddetti redazionali. Quindi i due autori studiano il legame tra pubblicità sulle riviste di moda e copertura delle imprese. E rilevano appunto un'esistenza di trattamento preferenziale per gli inserzionisti. E ancora è importante questo legame, questa differenza, c'è questo legame, quindi positivo, come troviamo noi con i nostri dati, ma c'è questa eterogeneità tra le imprese. L'impresa più grande riesce a ottenere di più. Quindi sono tutte cose che, dal punto di vista di uno che può studiare economia oppure da uno che può avere un'esperienza diretta dell'economia, sono sensate. Se io sono un attore grosso, ho più potere contrattuale. Grosso in termini relativi. Quindi la rivista, e quindi ricordatevi il primo studio, se io sono, per esempio sono fideliti come fondo di investimento, posso essere grosso per un giornale di finanza personale, non sono così grosso per gli New York Times o l'Oltrigiorno, sempre in termini relativi. Ok, adesso vi vorrei parlare di due argomenti, sempre, sono delle riflessioni che vengono fuori dai nostri dati, e riguardo questioni che ci sembrano, e forse sembrano anche a voi, importanti. Quindi, torniamo a bomba, come si suol dire, il legame tra rapporti proprietari e copertura mediatica. Nel periodo in questione, troviamo questo risultato, la stampa in media pubblica in media, in media, quindi pubblica in media l'1% di articoli in più sul totale che menzionano Fiat. Tenuto conto del fatto che Fiat è diversa, la stampa è digressa. Cioè mi sto focalizzando su quella specifica combinazione. Fiat, stampa. Com'è che possiamo interpretare questo risultato? In questo caso, mentre nella, vi ricordate, io vi do una percentuale della mia valutazione personale, dall'interpretazione benigna e maligna dei risultati, vi dicevo 35, benigna, 65, maligna. Qui devo essere molto più vicino a dare un'interpretazione, che non posso dirlo, cioè non si può dire dal punto di vista in termini definitivi nulla, ma in questo caso io sono più per l'interpretazione benigna, ovvero ci sono due interpretazioni. Qual è quella benigna? Che Fiat viene menzionata di più dal signor stampa, perché il signor Fiat possiede il signor stampa. Sì, non ha bisogno della pubblicità, è comprensibile la pubblicità. Esattamente, esattissimamente. Però ricordiamoci che che il giornale è un business, ovvero il giornale può persuadere, può avere un'influenza sull'opinione pubblica, ma deve vendere copie. Cioè ci sono i mercati, non i mercati finanziari, i mercati su cui il giornale è attivo sono rilevanti. È rilevante il mercato della pubblicità, è rilevante il mercato delle copie vendute. E dove vende la stampa? In maniera particolare. A Torino e in Piemonte. E quindi è ragionevole pensare che un pubblico marcatamente torinese e piemontese abbia un particolare interesse a sapere che succede con Fiat. Quindi a questo punto le due interpretazioni coesistono con i dati. Quindi nel nostro articolo noi diamo esattamente queste due interpretazioni e non possiamo concludere nulla. E da questo punto di vista vi invito a tenere presente questo. Viene spontaneo pensare all'interpretazione maligna, ma dall'altro lato l'interpretazione benigna è sensata se pensiamo qual è il business dei giornali. Ieri c'era Michele Polo, non so chi era presente, a raccontare del suo libro Notizie SPA e mostrava dei dati molto interessanti sulla concentrazione geografica delle vendite dei quotidiani. I quotidiani italiani alla fine della fiera sono molto locali e tra i grandi quotidiani quindi sostanzialmente Repubblica, Corriere, Repubblica, Stampa, Sole, Giornale, Unità e Libero, ok? Il più locale di tutti è la stampa. Ok? Poi, Corriere. Nel caso del Corriere noi non troviamo, non troviamo, una differenza sistematica nella copertura di Fiat, Telecom Italia e Toads. Ne presa una per una, ne prese congiuntamente. quindi se guardiamo il mero dato quantitativo su cui noi ci focalizziamo e guardiamo solo quello non c'è una relazione significativa tra il fatto che queste tre aziende possiedono quote societarie dentro il Corriere e quanto il Corriere parla di quelle società. Però, un'idea, cioè un'idea per voi, un'idea per me, un'idea per chi volesse lavorare su queste cose. forse la nostra misura è un po', come si dice, rozza. Ok? Nel senso che noi andiamo a contare il numero degli articoli. Quindi noi ci basiamo sui grandi numeri. Ok? In questo caso, se noi pensiamo, nel caso della stampa questo basta, ma perché c'è questa relazione forte, simbiotica tra la stampa e il pubblico della stampa, eccetera. forse per andare per il legame, per studiare il caso Corriere, dovremmo andare oltre, ovvero dovremmo cominciare a guardare non soltanto al numero degli articoli, ma anche alla posizione, prima pagina, venticinquesima pagina, la lunghezza, due pagine, cioè, diciamo, una colonna, venti righe d'articolo, il tono. Vi sto elencando cose che diventano sempre più difficili da misurare, perché è un conto prendere cento articoli, un conto andare a guardare tanti articoli. Nel nostro caso noi abbiamo sostanzialmente 54 mila articoli che menzionano uno delle imprese. Prego. Dicevo, posso portare la mia piccola esperienza nel senso che io lavoro in un'agenzia di comunicazioni, scrivo spesso comunicati stampa e ho dei rapporti con i mezzi non a questi livelli, nel senso lavoriamo pochissimo con Repubblica, Corriere, eccetera, ma con giornali più, con riviste più specializzate. E entrando nel merito del discorso, cosa che lei non sta facendo ovviamente professionalmente, ci parla di numeri, però spesso io non ho nessun riscontro da parte dei giornalisti che anzi a volte chiedono essi stessi dei redazionali su aziende di cui noi pubblichiamo tabellari, pubblicità semplice, creativa, quella che tutti conoscono, e ci chiedono essi stessi dei redazionali che non controllano. Cioè il giornalista che ci chiede o a cui noi mandiamo un redazionale non si pone il minimo problema di sapere se quello che è scritto è vero o no. E quello che scrive viene direttamente o comunque da un'agenzia che è pagata dall'azienda. Questa è la mia piccola esperienza, forse mi può rispondere meglio la signora Strada visto che è quello che fa, credo lei faccia la giornalista. Ecco, questa è la mia domanda e la mia esperienza insieme. Voglio dire che essendo giornalista della RAI nel servizio pubblico è molto più complicato il tutto. Io posso fare un riferimento al fatto che comunque lui parlava di forza contrattuale, no? Prima parlavi di forza contrattuale. Cioè io non credo, adesso io posso farlo perché non ho fatto questa inchiesta, cioè questa ricerca, non sono ricercatore, io credo che ci sia consapevolezza da parte di un giornale o dei giornalisti quando un'azienda ti dà soldi, pubblicità attraverso i soldi, attraverso la pubblicità ti dà soldi, ti sostiene e quindi vale la pena premiarla. Sono anche convinta che se questo è una forma di premio poi le analisi sui comunicati, verificare le fonti, eccetera, diventano poco importanti. ma io per esempio faccio anche un esempio su quello che può essere prima chiedeva del governo può esserlo per esempio con le televisioni commerciali i rapporti anche a livello locale quello che può essere il fatto che tu abbia la possibilità di avere un ente pubblico che sovvenzione in qualche modo poi insomma il fatto di poter essere più libero diventa molto complicato. Voglio dire se io ti compro le dirette del consiglio regionale, provinciale, comunale sono una pacca di soldi per una emittente commerciale è chiaro che insomma poi dopo magari ci parli anche un po' di più del coso quindi voglio dire la domanda di prima io credo che sia abbastanza mi sembra sì il problema è anche perché scusa volevo inserire adesso cioè le conseguenze per il mercato sono cose da poco cioè tutto questo meccanismo che tu stai e per ora stai parlando in termini punto quantitativi e poi la parte forse più interessante è le conseguenze che hanno poi sui mercati finanziari queste cose che non sono vette adesso infatti queste sono conseguenze su cui possiamo dire qualcosa basandoci in realtà più che su quello che facciamo noi su altri autori che si sono occupati esattamente del legame tra mass media e funzionamento dei mercati finanziari per quanto riguarda il suo commento la ringrazio per il suo contributo bisogna pensare qual è la maggiore fonte di informazioni sulle imprese le imprese stesse quindi c'è una relazione quindi non mi stupisco cioè dipende il grado di partecipazione del giornalista alla stesura di un articolo può essere diverso e non mi stupisco del fatto che esistano casi quali quelli a cui faceva riferimento lei in cui diciamo la partecipazione del giornalista è piccola minimo c'è una relazione quando gli economisti provano a pensare a queste cose sul legame tra PR e tra imprese quindi tramite PR e giornali si pensa a una relazione di lungo periodo ovvero sia l'agenzia di PR l'ufficio PR dà notizie dà pubblicità in certi casi la società dà pubblicità il PR dà notizie passa notizie passa informazione perché è la fonte di informazione quindi questo è il DO qual è l'UTDES l'UTDES è una cosa a cui accennavo all'inizio per esempio la gestione di crisi mediatiche relative a un'impresa succede qualcosa di brutto relativa all'impresa sono fatti che non mettono in buona luce l'impresa il PR può investire su questa relazione di lungo periodo e dire adesso faccio la recita ma con tutte le notizie che ti ho passato cerca questa notizia invece di mettermela in prima pagina con 6T non è che me la metti per favore in quinta pagina in basso questo è qualcosa che si può fare chiaramente stai chiedendo stai scambiando quel capitale di di credibilità e di fonte come fonte di informazioni che hai accumulato lo stai decumulando quindi se uno parla con i PR abbiamo fatto incontri con i PR a proposito di questi nostri risultati quello che ci raccontano è che questa cosa deve essere fatta quell'altra cosa cioè crisis management cioè come gestire la situazione complicata deve essere fatto con parsimonia perché appunto c'è questo capitale che non può essere sperperato però deve essere utilizzato in generale un commento una postilla riguardo a questo in generale nella recezione abbiamo raccontato questi risultati sia a PR che a giornalisti la cosa interessante è che i PR sembrano abbastanza contenti non dico ogni tanto sogghignano però come si dice i soddisfatti non prendono malamente questi risultati comparativamente invece i giornalisti li prendono meno bene questo è quello che può essere comunque questo vi sto raccontando senza farvi nomi le reazioni ad esempio ci può essere l'idea per cui ci si focalizza sul risultato quello che avevo fatto vedere quello che è bella prova il risultato bella prova cioè il fatto che si parla di più di una società dopo l'emissione di un comunicato stampa dice ah vedi questa è una cosa banale dimenticandosi la parte meno banale e più stringente dei nostri risultati ovvero sia questo aumento di copertura dopo un comunicato stampa è sistematicamente maggiore nel caso di una società che compra più pubblicità su quel giornale questo è il dato rilevante per noi l'altro è un controllo sui dati non ci interessa particolarmente cioè ci interessa perché se non fosse così ci preoccuperemo per la bellezza dei dati vi vorrei parlare dato che non vorrei uccidervi a quest'ora con questo caldo con troppa troppa roba vorrei raccontarvi un secondo del legame tra i nostri risultati e la finanza ovvero sia il legame tra quanto le imprese vengono menzionate dai giornali dai mass media e l'andamento delle quotazioni delle società nella nostra analisi noi stavamo facendo esattamente l'opposto ovvero sia eravamo focalizzati su quanto si parla delle società e usavamo come variabile esplicativa come era andata l'azione il giorno prima qua stiamo invertendo il flusso da un certo punto di vista questi due autori Barber e Odean mostrano una cosa prendete voi stessi come nella misura in cui lo siete come investitori individuali cioè voi non siete un fondo comune di investimento ok non siete un investitore professionale credo e l'investitore individuale tende a fare una cosa tende a comprare le azioni di cui si parla sui mass media sistematicamente di più questi due autori sono andati a vedere veramente i conti online di investitori individuali e hanno visto esattamente questo se io sono un investitore individuale esce la notizia sull'impresa X io tendo a comprare con maggiore probabilità quell'azione perché? boh ne abbiamo se ne è parlato per esempio Paul Seabright altri autori ne hanno parlato durante altri incontri al festival forse è proprio un problema di attenzione limitata quante azioni ci sono sul mercato tantissime le vediamo menzionate e dice ah guarda questa azione me la ricordo la compro ok e tra l'altro ci sono due tipi di investitori c'è l'investitore che vede che l'azione sale forse legge sul giornale che l'azione sale dice ah ma forse c'è un trend crescente seguiamo questo trend compriamo ma esistono anche altri tipi di azionisti investitori che hanno invece il comportamento opposto e si chiamano contrarian ovvero sia comprano basso cioè vedono che l'azione è scesa del 5% dice no questa cosa vale di più e adesso costa poco compriamola quindi a prescindere dal segno della variazione precedente ci sono diversi investitori che posso dire compriamo sono investitori sofisticati questi dipende dipende in certi casi funziona ci possa essere un certo ammontare di sofisticatezza in questa cosa ma questo non non se ne parla tanto in questa ricerca si parla di una cosa di un'altra ricerca questi Fang e Perez sostanzialmente dimostrano che conviene comprare se volete pensare al rendimento cioè di quanto crescerà l'azione vi conviene comprare azioni che non compagnano sui mass media e cos'è vendere allo scoperto cioè vendere senza avere di comprare dopo comunque essere ribassisti su azioni che compaiono sui media perché perché forse quelle che compaiono sui media sono sopravvalutate proprio perché investitori individuali si buttano a comprarle quindi a parità di fondamentali fanno salire il prezzo invece cosa che non accade per azioni di cui non si parla ok quindi conviene fare questa cosa però mettiamo insieme questi fatti dimostrati da altri questa non è la nostra ricerca sono fatti dimostrati da altri e non smentiti finora su dati americani ecco sulla base di ciò i nostri risultati sul legame tra pubblicità e copertura e mediatica mettono in evidenza una potenziale sinergia tra la funzione di marketing e la funzione di investor relation cioè la relazione della singola impresa con gli investitori chiaramente l'impresa piccola non lo fa l'impresa quotata lo può fare lo fa tanto più una società quanto più è grande quindi qual è l'idea se io compro qual è la sinergia positiva di cui vi sto parlando questa io comprando pubblicità una certa impresa compra attenzione mediatica quindi compra più articoli anche non solo pubblicità anche articoli e questi articoli in più inducono gli investitori a comprare il titolo in questione ok questo stiamo speculando ci stiamo parlando a pensare quali potrebbero essere le conseguenze come diceva come accennava prima Laura dei nostri risultati sul sul funzionamento dei mercati finanziari cioè su un aspetto importante in questo modo che succede che si tengono alte le quotazioni del titolo e a chi fa bene questa cosa a parte il lego di coloro che dell'amministratore delegato del consiglio di amministrazione non fa bene soltanto al lego ma fa bene per esempio in termini di stock option ovvero sia di opzioni ad acquistare un titolo che valgono tanto di più quanto più il valore del titolo è alto uno due questa è una azione un po' tecnica però sostanzialmente si abbassa il costo futuro di capitale di rischio perché a parità di dividendi che darò dopo questo è quanto devo pagare a chi compra azioni io la gente compra a un prezzo più alto quindi l'interesse implicito cioè il rendimento sul capitale di rischio è più basso quindi costa di meno comprare acquisire capitale di rischio nel caso facessimo un aumento di capitale dopo quindi queste sono due cose importanti quindi non c'è soltanto il lato della pubblicità del PR ma c'è anche il lato finanza qualche parola sul metodo voglio andare veloce perché non voglio uccidervi troppo la limitazione principale è il fatto che noi studiamo il numero di articoli non studiamo né la posizione né la lunghezza né il tono quindi questo è uno svantaggio sicuramente qual è il vantaggio? il vantaggio è che raccogliamo dati in maniera automatica e quindi la nostra procedura è poco costosa cioè io non ho assoldato nessuno per fare questa analisi ci siamo assoldati noi stessi quindi qual è il costo del nostro tempo anzi perché la ricerca dei dati viene fatta dal computer io potevo guardarmi la posta elettronica mentre i dati venivano raccolti sfruttando il multitasking del computer è replicabile chiunque può riprovare io nell'articolo noi diciamo quale parole chiave siamo andati a cercare cioè il nome dell'impresa Fiat Fiat Mediolanum Campari eccetera è portabile cosa vuol dire replicabile vuol dire rifare la stessa cosa sugli stessi dati per vedere se non vi ho raccontato le panzane è portabile ovvero sia io prendo questi risultati prendo scusate questa metodologia e l'applico a qualcos'altro in che senso posso andare a vedere cosa succede nel 2008 2009 ovvero cosa succede in un periodo di crisi anche 2010 dovrei dire cosa succede è un'anomalia italiana oppure vi sto semplicemente dicendo qualcosa che capita ovunque e comunque portiamo questa metodologia infatti stiamo pensando di farlo ad altri paesi europei per esempio andiamo a vedere cosa succede in Francia in Spagna in Inghilterra in Svizzera andiamo a vedere con dati simili i risultati i risultati sono falsificabili che dovrebbe essere la caratteristica di una indagine che pretende virgolette di essere virgolette scientifica ovvero sia questi sono i risultati devono poter essere falsificati cioè uno deve poter dire i dati devono essere fatti in modo tale che sia fattibile di venire e dire no Cambro e Puglisi hanno detto una cosa sbagliata perché in realtà i dati dicono qualcosa di diverso questo è importante dal punto di vista del metodo del lavoro che stiamo facendo cosa si deve fare ma innanzitutto si potrebbe andare a vedere di pesare gli articoli non contarli e basta però a questo punto bisogna cercare o si attua una procedura automatica attraverso cui non solo prendiamo gli articoli e misuriamo anche quante parole ci sono in ciascuno quanti caratteri andiamo a vedere il numero della pagina possiamo fare queste cose quindi forse è il caso di focalizzarsi su un caso studio cioè meno per esempio potremmo dire proviamo a vedere cosa succede sul corriere ci lavorerei volentieri questa cosa e forse non sono neanche l'unico cose da farsi due sarebbe una bell'idea misurare il tono degli articoli in maniera automatica forse in testa di molti c'è questo voi contate ma che dire dell'idea di capire se nell'articolo il giornalista sta dicendo che bella l'impresa Y oppure sta dicendo eh no ma l'impresa Y è una banda di mascalzoni ok questo noi non lo possiamo dire quindi il tono è importante il problema è che come si fa a misurare il tono si può far leggere tenete presente che se fate leggere gli articoli non è esattamente cheap non è esattamente conveniente fare leggere 50.000 articoli a qualcuno o a un gruppo di qualcuno quindi il costo è maggiore sarebbe bello se esistesse un dizionario semantico della lingua italiana come per esempio esiste in inglese in inglese esiste un Harvard dictionary bla 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 semantico della lingua inglese per cui si sa all'incirca se certi termini connotano qualcosa di buono o di cattivo ok secondo me questo è ancora più importante scusa se ti interrompo proprio perché tu hai detto che non fa differenza se la notizia è cattiva o buona allora e questo che secondo me fa proprio la differenza riuscire a capire la qualità dell'informazione non solo la quantità perché se fa notizia sia che sia negativo o positivo se la signora manda il comunicato stampa che dà una notizia brutta e fa dubito però ci può essere perché è meglio anticipare c'è qualcosa che non va l'ufficio stampa ci pensa ammorbidisce e funziona meglio che lasciare che il giornalista vaghi nelle praterie nel disastro e tanto più allora è importante la qualità del come non solo quante notizie proprio perché fa notizie se ne parla e quei 50.000 euro che producono 13 articoli gli articoli ci sono sia se sono positive o negative e quindi tanto più interessante sapere questo perché potrebbe proprio essere il fatto di poter di fronte a notizie cattive poter intervenire come dicono gli americani sono d'accordo al 110% con quello che hai detto nel senso che mi rendo perfettamente ci rendiamo perfettamente conto della limitazione del nostro approccio cioè noi andiamo a contare gli articoli sarebbe molto bello più interessante andare a vedere il tono è una cosa complicata tra l'altro è una cosa che cioè saper misurare bene il tono di un articolo non è soltanto qualcosa di rilevante per il nostro business in realtà sarebbe un business gigantesco nel senso che è una delle cose per esempio che cercano di fare i motori di ricerca cioè a quanto ne so il signor Google è molto interessato sarebbe molto interessato a riuscire a costruire un motore semantico non solo che capisce l'argomento ma capisce il tono cioè potrebbe definirmi in una scala di grigi quanto un articolo quanto un pezzo un testo su un certo argomento è positivo o negativo su un dato argomento il giornalista potrebbe essere quello che esalta in quel momento potrebbe anche fare da crocerossina cioè intervenire da crocerossina certamente sì certo è che il rapporto comunque diventa altrettanto interessante come la proprietà una cosa posso dire su questo posso dire una cosa non ne ho parlato perché non l'ho messo nelle slide perché non è una roba terribilmente robusta cioè resiste a provare a mettere i dati in maniera diversa a controllare per una cosa o per l'altra appare un po' la seguente cosa che un'interazione positiva tra come va l'azione il giorno prima e la pubblicità cioè non è sempre vero nei dati però ogni tanto appare che quanto più il quanto più la la quotazione la variazione dell'azione il giorno prima è positiva tanto più se ne parla l'avevamo detto prima però questo è tanto più vero quanto più pubblicità viene comprata su quel giornale quindi questo potrebbe dire in questo caso è come se ci facessimo aiutare dall'andamento del titolo sotto per dire se quello che sta succedendo è buono o cattivo però ve lo metto un po' tra parentesi perché non è un risultato molto forte dal punto di vista statistico in certi casi possiamo rigettare l'ipotesi che non sia vero in certi casi dobbiamo accettare cioè non possiamo dire con chiarezza con sicurezza che cosa se sia sempre vero se sia vero concludo quindi il nostro è uno studio replicabile portabile falsificabile sul legame tra pubblicità e copertura mediativa delle imprese sui quotidiani italiani controllando per fattori che confondo troviamo questa relazione significativa e dal punto di vista quantitativo non trascurabile tra pubblicità acquistata da società X sul quotidiano Y e il numero di articoli sul quotidiano Y che menzionano questa impresa X c'è ci sono questi effetti di sinergia di cose che funzionano bene insieme tra pubblicità e attività di public relation ricordate e anche forse tra pubblicità public relation e investor relation cioè quello che succede quindi quello che succede sul mercato finanziario qual è il passo successivo? secondo noi il passo successivo è questo è andare a guardare dentro i giornali oppure andare a guardare dentro qualsiasi mezzo mediatico si tratta di capire per esempio chi scrive su una data impresa è sempre lo stesso giornalista che scrive su una data impresa come cambia come cambia quando cambia il direttore come cambia quando cambia l'amministratore della proprietà di una data impresa cioè vedere andare dentro cioè andare dentro la relazione nel giornale e andare dentro la relazione tra giornalista e direttore potrebbe essere potrebbe essere anche interessante sarebbe importante che ci fosse disclosure cioè trasparenza sapere quanto spesso un certo giornalista viene invitato per esempio ad un convegno sponsorizzato da una data impresa di cui scrive vi racconto qua uno può avere in mente aneddoti ma la cosa importante è che beh innanzitutto per quanto riguarda sapere chi scrive un articolo già ora saremmo in grado di andare a cercare tramite gli archivi chi scrive esattamente un dato articolo e metterlo insieme con l'impresa quindi questo è già fattibile più difficile trovare questi altri dati ovvero sia tra chi scrive su un dato argomento e eventuali partecipazioni a convegni chiaramente rimunerati finanziati da quella data impresa quindi qui ci si avventura nella direzione più si alternano più si alternano i giornalisti più trasparenza c'è questo potrebbe essere molto importante cioè la rotazione più poi si specializza più la contiguità con gli interessi si cementifica questo è un punto molto importante vi è il caso per quanto riguarda ci può essere una maggiore competenza così però questo può comportare e questo lo dico per esperienza può comportare che se la eccessiva specializzazione porta comunque ad una minore trasparenza certo la relazione diventa di lungo mi sembra un commento molto importante l'analogia che mi viene quindi mi sento di continuare e pensarci sopra una cosa importante è che succede forse una cosa simile per le società normali le società normali spesso hanno un grosso turnover cioè cambiano spesso i responsabili degli acquisti perché il responsabile degli acquisti è quello che ha potere di spesa e quindi potrebbe iniziare una relazione di lungo periodo non trasparenti e con elementi di side payments cioè qualche elemento per cui è quello che in una relazione privata è più facilmente comprabile dalle imprese anzi le imprese che vendono una certa impresa hanno interesse a essere che i loro prodotti siano comprati e chi compre i loro prodotti è responsabile di acquisti cosa fanno le imprese fanno molta rotazione nel responsabile quindi da questo punto come analogia mi sento di trovare questo suggerimento molto importante molto condivisibile quindi questo è quanto quindi abbiamo fatto un po' di cose ci sono tante cose da fare e si possono scoprire cose interessanti e vi ringrazio molto della vostra attenzione se non c'è nessuno che vuole fare una domanda possiamo chiudere qui oppure ecco se l'editore puro anche alla luce degli avvenimenti ultimi di Le Monde a Parigi è una razza in via di estinzione grazie in Italia o all'estero non so mi viene da dire una dovrei studiarmi non l'ho studiata la cosa quindi non le so dare una risposta rigorosa o fintamente rigorosa una cosa mi viene in mente una battuta che viene usata negli Stati Uniti a proposito dei giornali locali si dice che chi è il che è il compratore di ultima istanza di un giornale locale l'immobiliarista locale ok quello che ha un'impresa di costruzioni o compre e vende case a livello locale quindi diciamo è un modo di rispondere alla sua domanda in questo senso che se diciamo il giornale è un business ok quindi trae fatturato come abbiamo detto ripetuto da pubblicità e copie vendute in certi casi entrambi possono calare quindi diventa difficile come sopravvivere come dimostra il caso Le Monde quindi a un certo punto è chi potrebbe essere il cavaliere bianco il cavaliere bianco o nero a seconda dei punti di vista è colui che ha un interesse industriale facevo l'esempio l'immobiliarista per cui possono far piacere due cose una il fatto che io in qualche modo potrei controllare il flusso di notizie uno questo è un beneficio ma non per il business del giornale per l'altro business uno quindi questa è una interpretazione che abbiamo un po' nella testa due mi piace avere l'interpretazione benigna o maligna tanto per confondervi le idee la interpretazione più benigna è questa che fa da quello che gli americani chiamano ego boost da una botta all'io controllare un giornale la gente è disposta a non guadagnare tanto su quando diciamo gente che ha i mezzi per comprare un giornale è disposta a non guadagnare tanto il suo ROE il suo rendimento sull'investimento è basso il suo rendimento sul capitale che ci mette è basso ma cosa prende in cambio non è che prende tanto profitti dall'altro lato ma proprio prende il piacere di dire io posso controllare un po' di opinione pubblica a io scrivo questi vengono chiamati questa è una cosa che studiano quelli che fanno finanza corporate finance sono i benefici privati è il potenziale di godimento del giornale quindi ci sono tutte queste due cose ed è interessante vedere quello che per esempio c'è il caso del New York Times Slim imprenditore grosso imprenditore è il secondo primo secondo terzo uomo più ricco del mondo ha comprato una quota nel New York Times perché l'ha fatto boh se la chiede e non è detto che vi ci dia la risposta vera e autentica però questo è un altro esempio di qualcuno per cui potrebbero essere validi quei due motivi di cui dicevamo ovvero sia io beneficio il mio business oppure io sono semplicemente felice del dire beh io sono ho una quota insieme alla famiglia Ox Sulzberger sono il secondo azionista del New York Times essere un po' idealisti dire che magari c'è una terza ipotesi che può essere anche che qualcuno vuole anche portare avanti determinate cose determinati valori assolutamente ci potrebbe essere anche la terza ipotesi perlomeno mi scopro cinico mentre parlo sì ecco io magari sfumo un po' questo cinismo magari uno vorrebbe anche avere un giornale per poter dire delle cose per poter portare avanti dei valori non per niente chiamano si sono d'accordo non per niente chiamano l'economia scienziatrista quindi intanto una diventa abbiamo un po' di speranza c'era un'altra domanda io volevo un chiarimento su quel dato l'uno per cento degli articoli della stampa che parlano della Fiat perché scientificamente direi che è un dato su di una misura di cui non conosco alcuna grandezza cioè in termini reali per esempio se Corriere ha pubblicato cento articoli che parlano della Fiat e Repubblica ne ha pubblicati ottanta dire che la stampa ne ha pubblicato un un per cento in più che cosa significa? perché anche in termini assoluti poi non mi sembra un valore potrebbe perfino sembrare trascurabile su questo sono diciamo per rendere un punto importante ti ringrazio della domanda che mi permette di chiarificare la variabile dipendente che noi realizziamo è la frequenza relativa di articoli ovvero che menziona la data impresa sul dato giornale ovvero per ogni giorno noi contiamo quanti articoli menzionano Fiat e dividiamo per il numero di articoli totali quindi in questo senso possiamo parlare di percentuali ok cioè quindi la sugli articoli esattamente sul totale quindi non è un numero se ci pensi i giornali pubblicano tanti articoli quindi non è un dato non è un dato piccolo non è un dato piccolo potrebbe anche essere influenzato che nel periodo ci fosse la crisi Fiat allora per questo se il fattore è più grafico di una determinata che a un reino qualunque articolo è molto probabilmente ah beh certo e beh certo esattamente è per quello che io non mi sento di dare interpretazioni cioè sottolineo con forza l'aspetto business ovvero sia e soprattutto per la stampa si sta parlando di Fiat si sta parlando di un'azienda importante in termini di occupati e di indotto comunque grazie per il commento perché è importante quindi alla fine noi non ve lo dè però dividiamo per il numero di articoli totali giorno per giorno ma l'idea è la stessa perché vogliamo controllare per il fatto che un giornale potrebbe essere più o meno grande in termini di quanti articoli ci sono in totale ma il dato numerico che importa è quanti articoli ci sono che menzionano cioè l'informazione sta dentro il numero di articoli che menzionano l'impresa ok e conta questa concentrazione locale no? conta tanto deve vendere deve vendere cioè chiaramente adesso c'è un nuovo direttore c'è Calabresi bisogna vedere che cosa che cosa verrà che tipo di strategia avrà perché potrebbe pensare di volersi espandere sul mercato nazionale ma e questo decentramento che fanno per esempio il Corriere della Sera che fa poi le edizioni locali queste cose come possono modificare beh è un problema di questo decentramento che c'è no? l'idea è questa che in generale per esempio in Inghilterra in Gran Bretagna ci sono quotidiani nazionali grossi specialmente i tabloid quindi sono diffusi abbastanza nel territorio e vendono tantissimo nell'ordine delle milioni di copie ma in molti paesi in Italia ma anche per esempio negli Stati Uniti in realtà i quotidiani se noi pensiamo ai quotidiani e anche in Germania i quotidiani sono molto spesso locali certi quotidiani locali belli grossi e possiamo fare e questo potrebbe essere l'esempio del il caso del New York Times nel passato il New York Times è stato uno dei giornali più importanti il giornale più importante negli Stati Uniti il New York Times a un certo punto che era concentrato nelle vendite tenete presente che il New York Times è concentrato nelle vendite in tre stati cioè New York New Jersey e Connecticut ok? quella che viene chiamata l'area dei tre stati a un certo punto il giornale il Times ha cercato di espandersi quindi è un po' come per i giornali italiani in scala più grande cioè ha cercato di dire abbiamo un marchio siamo conosciuti cerchiamo di entrare su mercati attivi geograficamente perché? perché l'idea è che forse ho la forza numerica o il marchio per entrare poi chiaramente si tratta sempre del caso dal punto di vista economico si tratta del caso in cui c'è tipicamente un'impresa incumbent cioè un'impresa che è nel mercato e qualcuno che arriva da fuori ovvero sì abbiamo il quotidiano locale perché quasi tutte le città hanno un quotidiano locale la cosa forse bella del Trentino è che ci sono tre giornali locali questa è una cosa interessante non è così comune in Italia però in un mercato locale c'è il giornale monopolista e è una strategia non è così non è una strategia così sicura così potrebbe essere una strategia rischiosa per un giornale anche grosso entrare in un mercato quindi spesso capita che il tentativo non funzioni ci provano cioè è una scelta di rischio una scelta imprenditoriale di rischio bene direi che abbiamo finito grazie per averci ascoltato grazie a tutti grazie a tutti